La premessa è questa, la settimana scorsa abbiamo presentato gli altri giocatori, c'era tanto entusiasmo, tanta euforia e quindi non abbiamo potuto approfondire un pochino quelle che sono state anche le scelte che hanno portato a fare questo tipo di progetto. Noi l'intenzione era quella di confermare in blocco la squadra dell'anno scorso che ha vinto la promozione, che era un gruppo fantastico e purtroppo la scelta di allenarsi di pomeriggio ha comportato una serie di defezioni e di implicite rinunce da parte di alcuni giocatori. Alcuni giocatori che tra l'altro per noi sono stati importanti a partire dalla difesa con Bucciarelli, con Acciarresi, passando per Biviglia, per Agostini, per Capitolo e quindi sono state per noi purtroppo delle grosse defezioni. E quindi siamo dovuti tornare sul mercato per correre ai ripari e trovare le alternative. In particolare, certo, ci sono figure come Agostini che ci hanno lasciato con la mare in bocca, anche in difficoltà. Abbiamo tentato in tutti i modi anche di convincerli, di convincerlo per organizzarsi, magari fare qualche allenamento di sera da solo con la Juniors, eccetera. Però noi ci siamo riusciti perché tra l'altro sappiamo tutti che il mister è uno molto esigente, quindi vuole giustamente il gruppo, vuole... Quindi sarebbe stato un sacrificio esagerato per lui. Capitolo, purtroppo c'è un lavoro che non gli permette di allenarsi di sera, proprio in maniera tassativa, di pomeriggio. E quindi abbiamo anche cercato noi, tramite i sponsor, di trovargli una soluzione alternativa di lavoro, ma con i tempi così stretti non siamo riusciti a trovare... Quindi questa è un po' la premessa perché io l'ho vissuta con i ragazzi, ci sono stati insieme, abbiamo festeggiato fino a ieri e quindi non poterli ritrovare nel nuovo gruppo ci dispiace. Però, diciamo, di necessità virtù abbiamo avuto la fortuna e il merito, diciamo, da parte di chi è che sta operando, di trovare gente nuova, gente di grande valore, come i ragazzi che presentiamo questa mattina. Zanchi, quindi eccolo qua. Buongiorno. Un applauso. L'anno scorso stava a Bastia, quindi sappiamo quello che ha fatto, giocatori di grande esperienza, difensore centrale. Io credo averci anche giocato contro, quindi me lo ricordo come un tipo molto tosto e rognoso e credo che sia l'elemento importante anche di spessore, di esperienza, più che altro per questa categoria e per il Poligno. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, sono veramente felice di essere qua, vedo insomma tanto entusiasmo e credo che Poligno sia una città e una piazza che ha una storia calcistica importante e merita sicuramente altri pari coscenici. Parlando con il Presidente ho visto già dai primi istanti che è una persona seria, che c'è un bel progetto dietro. Io mi auguro che ritorni l'entusiasmo che mi ricordo a Poligno tanti anni fa, perché comunque si merita questo. Io spero di fare un gran bel campionato qua e spero insomma di ripagare al meglio la fiducia che mi ha dato la società e che mi daranno anche i tifosi. Sicuramente, come diceva anche il Presidente, nell'arco dell'anno ci saranno dei momenti di difficoltà, perché vincere non è mai facile. Per noi è importante che in quei momenti la società come i tifosi ci stiano vicini, perché comunque durante un anno capita di avere un momento di difficoltà. E noi bisogna essere forti, bisogna cercare di andare avanti e di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio anno. Il mister già lo seguivo dall'anno scorso, so che lavora bene sul campo, è una persona seria e sono felice di poter lavorare con lui. Che vi posso dire? Io darò tutto me stesso, insomma, dentro al campo e anche fuori, perché credo che è importante quello che uno dà in campo, però credo che sia importante anche quello che uno dà fuori, dentro lo spogliatoio, perché siamo in una categoria che è vero, conta la tattica, contano gli allenamenti, contano tante cose, ma conta anche il gruppo che c'è fuori dal campo. Quello forse fa la differenza in queste categorie. Poi magari salendo è un po' più diverso, però in queste categorie se c'è un buon gruppo, credo che alla lunga faccia la differenza. Poi avrò modo di conoscere i miei compagni di squadra, già oggi ho conosciuto lui. E niente. Gli altri conosci qualunque? Sì, conosco Gorini, è vent'anni che sono giocato insieme e sono due ottimi ragazzi. Sì, no. Oltre che tecniche, anche come persone sono due garanzie. E niente, non vedo l'ora di iniziare questa avventura e basta. Emiliano, io ci ho giocato insieme sostanzialmente in prima categoria. Hai giocato con tutti. Quindi è un rapporto che nasce ormai da 5-6 anni fa. Ha fatto gol, tanti gol in prima categoria, ha fatto gol tanti in promozione. E quindi, secondo me, quest'anno è una bella sfida che lui si deve proteggere per farli anche in eccellenza. Siamo contenti che è rimasto perché lui c'era tantissimo di offerte, ovviamente, quindi è stato sostanzialmente anche l'uomo mercato del Foligno in uscita. e invece ha deciso di rimanere, di accettare questa sfida e di mettersi a disposizione della squadra, sapendo che l'eccellenza non è lo stesso campionato di promozione. Quindi deve essere l'anno della tua consacrazione. Anche l'anno scorso era così. Ogni anno è un anno di consacrazione. Vedremo. Tu hai fatto 100 gol in 4 anni in promozione, però l'eccellenza è una categoria diversa. Si possono fare comunque 100 in 4 anni, anche in eccellenza. Non è che cambia qualcosa. Non è quello il problema. Io l'ho fatto un anno da fuori quota e non è che ho giocato tantissimo. Stanno, speriamo che ho giocato più. E niente, vedremo. Sono abbastanza carico. Zanchi parlava di gruppo. E tu sei uno dei superstiti, tra virgolette, di questa squadra. Quindi questo gruppo dovrebbe ripartire un po' da te. Più che da me, penso dal capitano, che è quello con più esperienza. Dispiace il fatto che la maggior parte dei ragazzi ha lasciato la squadra, però fa parte del calcio. Per quanto riguarda me, sono amico anche fuori dal campo con loro, perché anche l'altro giorno siamo stati a cena tutti insieme, a dimostrazione del fatto che l'anno scorso sta arancando il gruppo. Io posso dire solamente che la società, per quanto riguarda lo scorso anno, ha chiuso il bilancio in pareggio, perciò questo credo che sia la cosa più importante. E non è stata un'annata a risparmio, perché abbiamo fatto, quanto si vince, si vince perché uno è più forte. Per essere più forte devi prendere i migliori. Pertanto abbiamo preso quello che di meglio c'era, perciò è stato un anno impegnativo, siamo riusciti a chiudere il pareggio. La cosa importante è quella di sensibilizzare ancora più la città e gli imprenditori della città, che ci possano dare una mano anche con questa nuova impostazione che stiamo dando con l'azionariato popolare, o comunque sia con una parte di quote a disposizione di tutti. Vediamo di coinvolgere più persone possibili. Poi, come ha detto prima Zanchi, vincere non è mai facile, perché gli altri non è che stanno a far presenza. Perciò voglio dire, stiamo cercando di allestire una squadra degna del nome di Foligno per cercare di essere lì, fra quelli che competono per... Poi non è detto che le scelte terminano con il mercato attuale, magari si può fare qualche correzione, dipende dove uno sta, dove uno non lo sta. Però l'essenziale è che noi guardiamo l'obiettivo, che è quello che ci siamo dati, insieme con quei 4-5 che abbiamo iniziato, io poi c'entro anche poco, diciamo che abbiamo iniziato un discorso di collage fra tutte le persone, però è quello di dire bisogna fare un passo secondo la gamba, perché altrimenti perdiamo di vista quello che è l'obiettivo primario, quello di tenere in piedi una società sana. Poi dopo, se per passare di categoria o per fare qualche altro passaggio bisogna aspettare un anno, due anni, questo non è importante. L'essenziale è che chi, ora che ci siamo noi, e chi verrà dopo di noi, trovi una società sana, dove poter lavorare tranquillamente, senza patrimonio di animo, senza andare incontro a situazioni che già conosciamo e che non vogliamo più conoscere. Perciò, per me l'importante è questo. Poi dopo Ginai, invece di 31 gol, ne farà 29, ma credo che cambi poco. Lui i gol ha sempre fatti, perciò credo che uno abituato a segnare bastano anche 25. Esatto, segna sempre. Perciò, voglio dire, l'importante è però avere una società ben piantata in terra, sana e con tutti i presupposti per guardare avanti con fiducia.